dal libro dottrina di salvezza volume 3 joseph philly smith capitolo 14 il mondo apostatico apostasia dalla chiesa primitiva la prima apostasia cominciò al tempo d'adamo quando il signore creò la terra e il suo cielo li definì assai buoni egli santificò e quando sulla terra un messo l'uomo questa condizione di bontà e di santità predominava lei disse al suo figlio giacobbe ed ora sappiate che se adamo non avesse trasgredito non sarebbe caduto bensì sarebbe rimasto nel giardino di eden e tutto quanto era stato creato sarebbe rimasto nelle stesse condizioni in cui era subito dopo la creazione e ciò sarebbe rimasto immutato per sempre e senza fine e l'ammolimento dato ad adamo nel giardino era che egli non doveva mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene del male perché se lo avesse fatto sicuramente sarebbe morto per mezzo della sua trasgressione la morte giunse su di lui e la terra che era assai buona fu maledetta sì da produrre spine e carvi che prima non produceva e così essi essa e tutte le sue creature subirono la caduta a causa del potere di satana molti figli di adamo e di eva si ribellarono perché amarono satana più che dio e da quel tempo gli uomini cominciarono ad essere carnali sensuali e diabolici molti periodi di apostasia nella storia della terra il vangelo che il signore aveva dato ad adamo fu cambiato le ordinanze furono interrotte e il governo perfetto che gli era stato rivelato cessò di esistere ben presto si cominciò ad adorare idoli e dei immaginari uomini violenti ed empi presero il sopravvento e si insediarono come governatori e si costituirono governi fatti dall'uomo in cui il divino regnante era ignorato poi venne il diluvio e la terra fu purificata allora a noè furono rivelate le alleanze e i comandamenti per il governo dell'uomo ma prima della sua morte la terra era di nuovo percorsa da cima a fondo dalla corruzione fu necessario che il signore chiamasse abramo dalla terra della sua nascita e facesse con lui e con i suoi posturi delle alleanze che durassero per sempre e per i suoi discendenti i figli giacobbe divennero il popolo eletto israele nel corso del tempo dopo che israele stabilita nella sua reità in canaan queste alleanze furono infrante ed a causa della ribellione delle dieci tribù allora note come il regno di israele quel regno arrivò alla fine il popolo fu portato di schiavitù in assiria e da quella terra non ritornò mai più circa 130 anni dopo anche le due tribù rimanenti furono punite e condotte in babilonia dopo che ebbero sofferto sufficientemente e si furono pentite ebbero il privilegio di ritornare nella loro terra natale dove ricostruirono il tempio e per un breve periodo di tempo servirono il signore poi una volta ancora venne l'allontanamento dal signore e quando giunse il tempo dell'apparizione del figlio di dio gli uomini lo respinsero e lo crocspissero ma e gli istitui di nuovo la sua chiesa con quei pochi che erano disposti a seguirlo i quali furono mandati in tutto il mondo a proclamare il suo vangelo alla morte dei suoi apostoli vi furono nuovamente l'apostasia e così i principi di salvezza e le ordinanze vangeliche furono cambiati per adattarli alle convenienze e alle nozioni del popolo le dottrine furono pervertite l'autorità andò perduta un falso genere di religione prese il posto del vangelo di gesù cristo come era venuto nelle dispensazioni precedenti e il popolo fu lasciato nelle tenebre spirituali l'apostasia dopo il meridiano dei tempi ogni uomo intelligente può sapere che al tempo degli antichi apostoli seguì un'apostasia dalle dottrine e dalle pratiche della chiesa primitiva la storia ci dimostra che il sacerdozio istituito dal nostro salvatore fu corrotto e furono creati uffici sconosciuti al tempo degli apostoli ed estranei alla vera chiesa di gesù cristi gli uffici istituiti dal salvatore furono abbondanti con la scusa che non erano più necessari furono abbandonati con la scusa che non erano più necessari gli apostoli e i profeti ufficiali che secondo quanto afferma paolo dovevano rimanere nella chiesa finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di dio allo stato d'uomini fatti all'altezza della statura perfetta di cristo cessarono di esistere a motivo per cui non mi fu più alcuna rivelazione o contatto con i cieli inoltre fu proclamato completo il canone della scrittura le pure e comprensibili verità del vangelo vennero mescolate con le filosofie pagane di quel tempo e le ordinanze evangeliche non assomigliavano più a quelle insegnate a pratica a pratiche dagli apostoli del nostro signore le prove di questo sono molto evidente per ogni studente della storia per primi dei primi secoli dell'era cristiana la ribellione protestante non corresse questi errori coloro che si allontanarono dalla madre chiesa perpetuarono questi mali e quindi le stesse dottrine e pratiche corrotte furono perpetuate in quelle organizzazioni protestanti la verità relativa alla natura di dio e dal vero rapporto tra il padre e il figlio scomparve e nel periodo successivo a costantino essa fu sostituita dall'incomprensibile dottrina della divinità così la confusione inerente al nostro padre eterno e al suo figliuolo gesù cristo ha continuato a esistere attraverso tutto il cristianesimo fino ai nostri giorni natura universale dell'apostasia tutti gli uomini del sacerdozio dovrebbero capire bene lo sviluppo della falsa dottrina e del graduale cambiamento che si verificò dopo la morte degli apostoli che trasformò la chiesa di gesù cristo in un organismo tanto lontano dalla chiesa primitiva quanto lo sono i poli dei nostri emisferi niente rimase di ciò che attiene alle ordinanze e pochissimo di ciò che riguarda la dottrina date entrambe per rivelazione al tempo del nostro salvatore e durante la vita degli apostoli si potrebbe scrivere molti si potrebbero scrivere molti volumi per dimostrare l'allontanamento dagli insegnamenti originali e dal ministero della chiesa per la verità storici imparziali hanno indicato attraverso i secoli come avvennero questi cambiamenti inoltre alcuni storici che erano dei seguaci della chiesa cattolica forse inconsapevolmente hanno reso testimonianza di questi grandi mutamenti se avessimo accesso a tutti i documenti che trattano dei cambiamenti ecclesiastici dei primi due o tre secoli dell'era cristiana la gente farebbe delle scoperte alquanto sorprendenti quanto sappiamo rivela condizioni deplorevoli nello sviluppo di false dottrine nel cambiamento delle ordinanze nell'ordine del sacerdozio e nel governo della chiesa e rende chiaro agli occhi di tutti coloro che lo considerano seriamente che come era stato preparato dagli antichi apostoli si ebbe un'apostasia dalla vera chiesa di gesù cristo pietro e paolo predissero la grande apostasia l'apostasia non avvenne all'improvviso ma gradattamente e cominciò quando ancora alcuni apostoli erano in vita paolo quando a mileto si congedò dagli anziani di epeso disse io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci i quali non risparmieranno i gregge e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé egli esorto i membri della chiesa di tessalonica e a non lasciarsi ingannare circa l'introduzione della seconda venuta di gesù cristo poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo dal peccato il figliolo della predizione l'avversario colui che inalza sopra tutto quello che è chiamato dio o l'oggetto di culto fino al punto da porsi a sedere nel tempio di dio mostrando se stesso e dicendo che egli è dio anche pietro scrisse dicendo ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizioni e rinnegando il signore che li ha riscattati si trarranno addosso subito la rovina e molti seguiranno le loro lascive a cagion loro la via della verità sarà diffamata il paganesimo gradualmente sopraffesce la verità evangelica per tutti coloro che indagano è chiarissimo vedere che i cambiamenti avvenuti nelle dottrine della chiesa furono introdotti nei primi secoli successivi alla morte degli apostoli poi piano piano si starò l'ascendenza del vescovo di roma sui altri vescovi ufficiali della chiesa la quale cosa portò alla dichiarazione secondo cui pietro aveva scelto quel vescovo quale suo successore nonostante il fatto che giovanni e probabilmente altri posti fossero ancora in vita nel nuovo testamento c'è la prova che nel principio si voleva che il consiglio dei apostoli fossero perpetuato perché paolo fu chiamato all'apostolato ed altri come barnama e giacomo fratello del signore furono nominati a tale incarico ma questo consiglio giunse gradualmente alla fine a guisa che la chiesa andava allargandosi ed espandendosi specialmente dopo la morte degli apostoli vi si insunarono a false dottrine la filosofia pagana venne mescolata con la verità e i semplici chiari principi cerimonia del vangelo così chiari che anche la gente incolta e comune poteva capirli furono talmente cambiati mischiati dall'errore al mistero e alla ostentazione così estranei alle dottrine di cristo che la gente ne rimase confusa e sconcertata sorsero falsi insegnamenti e il sacerdozio fu nuovamente ritirato di mezzo agli uomini per essere restaurato in un momento migliore e più favorevole giovanni vide portare il sacerdozio in cielo l'apostolo giovanni quando era nell'isola di patmo vide il tempo in cui la chiesa sarebbe stata costretta ad andare nel deserto in questa visione la chiesa è rappresentata dall'immagine di una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e il suo capo una corona e sul capo una corona di 12 stelle e apparve un altro segno del cielo un gran dragone rosso che trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le gettava sulla terra questo dragone quando fu gettato sulla terra con grande collera perseguito la donna e il bambino nato da lei a causa della persecuzione la donna furono date le ali affinché se ne volasse nel deserto nel deserto nel suo luogo dove è nutrita un tempo dei tempi e la metà ad un tempo lungi dalla presenza del serpente il figlio maschio che rappresenta il sacerdozio scelto per per reggere tutte le nazioni con verga di ferro fu rapito spesso a dio e al suo trono per rimanervi per tutti i giorni bui della ribellione spirituale e del dominio satanico ovvero finché la terra non sarebbe stata pronta per il suo ritorno per ricevere il potere giusto e legittimo questo ritorno della chiesa e del sacerdozio fu rimandato ai giorni della libertà religiosa in una terra appositamente dedicata a tale libertà niente se non la restaurazione poteva porre rimedio alla possesia jose smith era perfettamente coerente nell'orientamento da lui inter intrapreso il fatto che nel 1820 sulla terra non si trovasse un'organizzazione che in qualche modo assomigliasse alla chiesa primitiva e che asserisse di aver ricevuto autorità e quasi al di là di ogni possibilità di discussione della chiesa con le sue chiavi e il suo sacerdozio doveva essere restaurata allora se lo doveva avvenire con l'apertura dei cieli e con la venuta in terra di messaggeri dal cospetto del signore l'uomo non ha l'autorità di istituire la chiesa per il signore e il signore non è tenuto a riconoscere le organizzazioni dell'uomo con le loro regole enorme i suoi sistemi non sono i sistemi dell'uomo e quando gli uomini cercano di organizzare qualcosa nel campo religioso la loro autorità può arrivare soltanto là dove arriva il potere dell'uomo e perciò tutte le organizzazioni di questo genere devono fallire nel loro tentativo di dare agli uomini le benedizioni della salvezza un po di verità in tutte le chiese tutte le chiese insegnano qualche verità sia quelle che professino di credere in confucio in buddha nei dei greci e romani o in qualsiasi altra cosa altrimenti non durerebbe neppure un mese il fatto che esse insegnano qualche verità non fa di loro la chiesa di dio che è una sola il moderno cristianesimo apostatico progresso materiale senza sostegno spirituale alcuni diranno non viviamo forse nell'era più illuminata del mondo non è vero che lo scopo del grande progresso è quello di diminuire le difficoltà e di aumentare l'apricità dell'uomo sì questo è vero perciò che concerne le molte cose materiali grandi progressi si sono fatti nella meccanica nella chimica nella fisica nella chirurgia e in altri campi gli uomini hanno costruito grandi telescopi con cui hanno potuto vedere le lontane galassie con l'ausilio del microscopio essi hanno scoperto vasti mondi di microorganismi hanno scoperto vari sistemi per vincere le malattie con l'aiuto dell'anestesia essi hanno reso l'uomo insensibile al dolore fisico per cui si possono compiere operazioni gravi e delicate che altrimenti non potrebbero essere eseguite hanno inventato i macchinari più sensibili del tocco umano più acuti dell'occhio umano hanno tenuto sotto controllo gli agenti atmosferici e costruito macchinari che possono spostare montagne e fatto inoltre cose che qui non è il caso di citare sì questa è un'età meravigliosa tuttavia tutte queste scoperte e menzioni non hanno avvicinato gli uomini a dio ne hanno creato nel loro cuore l'umiltà e lo spirito del pentimento al contrario sembra che quasi tutto quello che è stato dato agli uomini come benedizione sia divenuto un male molte di queste invenzioni e scoperte vengono ora usate per portare la distruzione alla razza umana esse sono impiegate per le guerre più crudeli più disumani e più malvagie che questo mondo abbia mai veduto esse sono usate dai criminali per azioni delittuose dai ambiziosi dei loro tentativi di distruggere il libero arbitro dell'uomo e dai despoti che si sforzano di sottomettere il mondo a un dominio empio e malvagio l'età moderna è un'età di apostasia e di corruzione la fede non è aumentata nel mondo né lo è la giustizia e l'obbedienza a dio quello di cui oggi il mondo ha bisogno è di avvicinarsi maggiormente al signore abbiamo necessità di una fede più umile e costante nel nostro redentore di più amore nel cuore per il nostro padre eterno e per i nostri simili noi viviamo in un'epoca meravigliosa le grandi menzioni del nostro tempo superano quello che si conosceva nell'età passata fortunatamente queste menzioni non sono riuscite a portare gli uomini più vicini a dio uno potrebbe pensare che ciò che avviene rivelato attraverso la radio o la televisione avvicini l'uomo a dio ma non è così gli uomini sono più inclini a vantarsi della loro forza negando l'aiuto divino il crimine è aumentato l'integrità dei uomini è diminuita leggendo la stampa si può benissimo credere che ci stiamo avvicinando al giorno predetto da gesù cristo e come fu ai giorni di noè così sarà la venuta del figlio dell'uomo i popoli della terra si stanno avvicinando a questa stessa condizione gli avvenimenti del mondo indicano che è così abbiamo sopportato guerre con lutti e spargimento di sangue più dolorosi di quelli subiti in qualsiasi altro secolo le nozioni sono state e sono tuttora schierate l'una contro l'altra prevalgono i conflitti le difficoltà e il male governi con vaste popolazioni hanno rinnegato dio essi hanno cercato di rendere lo stato supremo ed hanno privato il popolo della sua libertà negli stati uniti d'america la giustizia è in diminuzione cosa ne è del nostro paese il signore ha suscitato uomini onorati per renderlo un paese libero a questo proposito egli ha dichiarato pertanto non è giusto che un uomo sia in schiavitù a un altro a questo scopo io ho stabilito la costituzione di questo paese per mano di uomini saggi che ho suscitato a questo scopo ed ordento il paese con spargimento di sangue a quel tempo gli uomini amavano dio essi camminavano in multa e gettavano basi salde su cui noi siamo stati edificati camminiamo noi sui loro sentiero sosteniamo i stessi principi assicurando un governo libero e un popolo libero la nostra è un'azione che si basa fondamentalmente sull'equità sulla virtù e sull'amore abbiamo perduto il nostro senso di giustizia la nostra integrità il nostro amore per la verità e il nostro onore nell'espletamento del dovere siamo divenuti vittime della cupidigia abbiamo dimenticato il sentiero della virtù chiudiamo un occhio sulla violazione dell'alleanza matrimoniale e anzi la tolleriamo e consideriamo il matrimonio come un contratto temporaneo che può essere annullato quando si vuole si è dimenticata la castità quando leggiamo di uomini scelti per rappresentare il popolo che vengono meno al loro mandato di fiducia quando leggiamo di atti di rapina d'assassinio eccetera compiuti sfrontamente sfidando la legge vi è infatto di chiederci se non ci stiamo avvicinando al giorno della decadenza come i popoli antichi ritorniamo all'integrità individuale e nazionale all'amore per dio e per la patria ad essere onesti nei rapporti con gli altri virtuosi nella nostra vita qui sta la sola strada per la felicità e la pace inoltre non dimentichiamo che la giustizia esige la riparazione di ogni torto disse Alma un antico profeta credete forse che la misericordia possa dirubare la giustizia non vi ripeto in nessun punto altrimenti il dio cesserebbe ad essere dio il mondo sta diventando peggiore non migliore io non sono uno di quelli che credono che il mondo stia diventando migliore e neppure mi considero un pessimista ma non penso che il mondo stia diventando più giusto che i suoi abitanti si stiano avvicinando di più a dio che nel cuore della gente ci sia oggi maggior desiderio di servirlo di quanto non ce ne fosse nell'anno 1832 e d'altro canto da quel tempo i popoli della terra si sono sempre più allontanati dalla verità nel fare questa dichiarazione sono pienamente consapevole che c'è stato del progresso in determinate direzioni sono consapevole che in questi ultimi giorni in tutte le nazioni c'è stato un movimento per stroncare la piaga dell'alcolismo e tutte queste cose daranno i loro buoni risultati ma per quel che concerne l'osservanza delle dottrine evangeliche e la rettitudine dei popoli non credo che le cose siano migliorate no io non credo che le persone siano buone come lo erano quando fu fatta questa rivelazione nel mondo preordinato le false teorie e le false filosofie oggi il mondo è pieno di vana filosofia pieno di dottrine che non sono del signore pieno di false conclusioni idee e teorie che al tempo del figlio di dio non facevano parte del vangelo e quindi non ne fanno parte neppure ora e che sono in assoluto contrasto con la verità secondo me ci sono oggi meno cristiani che credono nel figlio di dio come redentore del mondo durante tutti questi anni c'è stata la tendenza ad allontanarsi dai principi del vangelo contenuti nelle sacre scritture il culto della ragione della falsa filosofia è ora più grande di quanto non lo fosse allora gli uomini si affidano alle loro ricerche per trovare dio e quello che non riescono a scoprire e a dimostrare per il loro appagamento tramite le loro ricerche e i loro sensi naturali lo rigettano essi non vanno in cerca dello spirito del signore non si sforzano di conoscere dio nel modo da lui indicato ma camminano per la loro strada accecati dalla filosofia che hanno abbracciato e insegnando le dottrine del demonio e non quelle del figlio di dio alcuni educatori si ribellano contro dio e la religione alcuni educatori famosi hanno detto al mondo che noi non abbiamo alcuna guida nel pensiero religioso oltre al potere della sapienza umana e perciò la nostra ragione individuale è quanto di meglio abbiamo per la nostra guida per centinaia di anni questa ridda di voci è risuonata nel mondo religioso perfino ai giorni nostri poco meraviglia che i uomini sapienti cioè sapienti per la cultura che hanno vale a dire scrittori, educatori, dottori, legge, teologi si riuniscano come avvenne a Chicago il 3 aprile 1933 per discutere quelle che essi ritengono essere le necessità religiose dell'era attuale se si devono accettare i resoconti della stampa questi sapienti si riunirono e dichiararono le forme religiose e le idee dei nostri padri non sono più all'altezza dei tempi al loro posto essi offrono l'umanesimo e spiegano la loro fede con 15 punti che non possono essere qui commentati basti dire che essi sostengono che il cristianesimo ha fallito e che la religione deve formulare le sue speranze e i suoi piani alla luce dello spirito e del metodo scientifico dicono anche che non si può fare distinzione fra il sacro e il profano che per essi il culto per il regnante supremo è per la preghiera religiosa a lui rivolta sono cose inutili gli uomini devono trovare l'espressione delle emozioni in un più alto senso della vita individuale e nello sforzo unito atto a favorire il benessere sociale per questi adoratori l'universo è autonomo è una creatura che non ha avuto creature il dottor Charles E. Stoffield nel suo libro The Adventurous God dice oggi la tendenza principale dell'incruità è che noi abbiamo molto bisogno di una religione ma essa deve essere una religione senza un dio i liquori e il fumo favoriscono le condizioni apostatiche è triste a dirsi ma il mondo oggi è pieno di male l'umanità si è allontanata dalle vie della giustizia per abbandonarsi al pensiero immondo alle abitudini degradanti che distruggono l'anima nel nostro paese miliardi di dollari vengono spesi annualmente per i liquori e il tabacco che intossicano l'organismo i mali che l'ubriachezza e l'indecenza causano all'umana famiglia sono debilitanti non soltanto per la salute ma anche per i balwardi morali e spirituali dell'uomo è deplorevole che l'induggere al vizio dell'alcolismo e del fumo sia tenuto in sì grande conto anche nelle sfere più alte delle vite sociali inoltre è un crimine che i produttori di questi vereni rivolgano appelli al pubblico i quali sono accolti favorevolmente anche da molte persone ben pensanti reclamizzandola la loro merce e consigliandola agli uomini che sono al servizio del nostro paese non è che con questo essi vogliono pensare al benessere di questi uomini o che siano animati dal desiderio di vederli riuscire all'enorme compito che devono svolgere ma è per l'empia bramosia di aumentare smisuratamente con profitti illesti le loro ricchezze l'indebolimento della resistenza e la menomazione del corpo di questi uomini che dovrebbero essere fisicamente forti e mentalmente pronti non significa niente per questi enti dediti all'annientamento delle anime come gli uomini si legano con le catene dell'inferno sono sicuro che il signore porgerà il suo orecchio alle nostre preghiere e sarà più disposto ad aiutarci nelle nostre battaglie se manterremo i sani se manterremo sani i nostri corpi e le nostre menti e se avremo rispetto per le sue leggi egli ha promesso che se gli abitanti di questa terra scelta sopra tutte le altre terre si fossero umiliati ed avessero osservato i suoi comandamenti egli l'avrebbe fortificata e a noi avrebbe dato la protezione divina fortunatamente gli uomini non si sono sentiti di fare questa cosa essi si sono allontanti dalla retta via e dalla sana conservazione dei loro corpi per darsi alle vie del male l'immoralità imperversa, ubriachezza, predomina da mare a mare il vizio del fumo ha degradato sia i uomini che donne e il suo tanfo è salito fino al cielo con la pratica di questi mali l'umanità si lega da sola con le catene dell'inferno le nazioni moderne ebbre di iniquità e di abominazione nel principio quando il Signore dette il Vangelo ad Adamo gli comandò di insegnarlo ai suoi figli sappiamo che Satana venne fra loro dicendo non credete ed essi non credettero ed amarono Satana più noi che Dio e da quel tempo gli uomini cominciarono ad essere carnali, sensuali e diabolici da allora attraverso l'aiuto di Satana queste tendenze hanno un prevalso nel mondo quindi e